Oggi facciamo dei crostini di pesce, buoni, economici e decisamente diversi dal solito. Per prima cosa taglia a pezzi le fette di pane da tramezzini. Tosta quindi i crostini. Trita finemente un mazzetto di prezzemolo e trasferisceli in una ciotolina. Aggiungi uno spicchio d'aglio spremuto, pochissimo sale e abbondante olio extravergine di oliva. Mescola il tutto e metti da parte l'emulsione ottenuta. Metti qualche cucchiaio di maionese in una ciotola. Aggiungi un paio di cucchiaini dell'emulsione preparata in precedenza e mescola. Sforna i crostini, cospargili con un po' di maionese aromatizzata. Aggiungi qualche fettina di filetto di aringa fumicata. Attenzione, ci sono aringhe fumicate salatissime ed altre con una salatura un po' più delicata. Per questa ricetta devi utilizzare aringhe poco salate. Aggiungi infine un po' di uova di lombo rosse per dare un po' di colore. Buon appetito!